con queste celle solari sharp all'avanguardia nella tecnologia ha creato sharp solar le nuove calcolatrici che funzionano ad energia di luce la luce del sole e se il sole non c'è basta anche una lampadina sharp solar piccole e sottili per chi viaggia efficienti e pratiche per lo studente sofisticate e complete per il professionista sharp solar le più economiche perché funzionano senza pile con sharp solar basta poca luce sharp